con Andrea Peres al termine della vittoria importantissima vittoria della Clivenza la seconda consecutiva si era una vittoria che serviva serviva soprattutto per il gruppo per noi per prendere più fiducia per dare continuità alla vittoria di sabato col Villavalle e soprattutto per la classifica per rialzarci un po' dopo il brutto periodo che abbiamo avuto ci voleva carattere abbiamo visto anche la tua partita grintosa lì in mezzo al campo non è stata facile però alla fine sono arrivati questi tre punti e sono ancora più pesanti no quando si poi porta una casa dopo una prestazione così di lotta no ma le partite che abbiamo sbagliato sono state soprattutto per il carattere abbiamo forse messo poco e lo abbiamo capito un po' tardi però le ultime due partite ecco abbiamo aggiunto questo carattere ognuno ha dato di più poi per quanto riguarda me io questa diciamo la caratteristica mia corro da una mano però sì era il carattere quello che mancava e in queste due partite l'abbiamo abbiamo dato e sicuramente continueremo a darlo partita dopo partita sempre di più adesso non c'è tempo no per riposarsi perché si torna subito in campo domenica per il terzo impegno praticamente una settimana contro la vittoria ci saranno Bergamo anche lì magari hanno a portare a casa altri tre punti per piano piano risollevarsi in classifica no sicuramente è quello l'obiettivo nostro dare dare un altro risultato positivo alla squadra e riportare i tre punti a casa quello è il nostro obiettivo come l'obiettivo di tutte le domeniche o sabato e mercoledì quando giochiamo grazie grazie a voi ciao ciao